Amici di Piazza Grande ben ritrovati, un saluto a tutti quanti voi telespettatori di Telelibera Cassano e naturalmente un coloroso ben ritrovati anche a chi ci segue su piazzagrandetv.com Buon ritorno qui in Piazza Grande per il professor Giulio Iudicissa e per l'avvocato Emanuele Monte Allora partiamo subito da quelle che sono, non chiamiamole polemiche, ma alcune voci a favore e contro su quanto sta effettivamente ormai accadendo Siamo una città unica, Corigliano-Rossano, naturalmente sto parlando di questa fusione, che continua a far discutere Sul lungomare di Schiavonea c'è una vela in bella vista, affirma Aldo Algeri e c'è questo atto di accusa nei confronti dell'ex sindaco Geraci 1041 anni di storia cancellati secondo Algeri, naturalmente contro la fusione in modo molto importante Una persona che comunque ha avuto anche ruoli istituzionali importanti, è stato candidato a sindaco, è stato consigliere comunale, è stato vice sindaco, assessore Dall'altra parte c'è chi appone la propria firma sul lenzuolo caduto, il lenzuolo tracoriano-Rossano Una manifestazione con delle persone che si sono prodigate per questa campagna referendaria Abbiamo un commissario unico, tra qualche mese, non pochissimi, si tornerà alle urne E ci sarà questa amministrazione che dovrà guidare Corigliano e Rossano In che condizioni questa nuova squadra di governo che si andrà a creare Troverà il nostro territorio? Io credo, e questo lo dico senza conoscere bene i dati Eppure sono necessari Fino a che punto può durare questa situazione di trapasso? Perché? Perché se è una questione di 15 giorni, 20 giorni, un mese Io tralascio tutto ciò che può riguardare la polemica sulla tua premessa che hai fatto Vengo così come in mia abitudine alle cose serie E dico Se questo trapasso dura anche qualche mese È mai possibile che possa essere affidato ad una sola persona Ad un solo commissario, viene questo commissario Può fare i miracoli, può fare anche i miracoli Ma non riuscirà mai Non dico a risolvere i problemi di tutti i giorni Ma non potrà risolvere nemmeno quelli che si trascinano Perché sono gravi La pulizia delle strade La questione incompente del porto Sono cose che dovrebbero interessare soprattutto la sua persona Ora, noi siamo sicuri che quest'uomo per quanti sforzi faccia Sì, è di Milano O è di San Giorgio Albanese Si trasferisce a Corigliano Sta 4 giorni a Corigliano e 3 a Rossano Che può fare in 7 giorni dalla mattina alla sera Lasciamo perdere quello che può fare per quanto riguarda Per quanto riguarda l'impiegato che non fa il suo dovere Oppure qualche sospetto che lui possa avere su qualcuno Che non fa il suo dovere O fa di peggio Che segnale Lei che è un esperto Professionalmente di criminalità Che segnale è Quello che un commissario arriva E come prima cosa Dice Intanto Cambio le chiavi delle serrature Bisogna vedere Se cambia le chiavi delle serrature E le serrature soltanto della sua stanza Può essere che lui conosce alcune cose E dà alcuni riferimenti a queste cose nella sua stanza Se cambia la serratura più di una stanza Vuole significare che deve spiegare perché le cambia Perché non è che possiamo stare sempre come babbuini Ad aspettare che si faccia alle nostre spalle qualunque cosa Anche il commissario ci deve dare conto Che vuol dire? Quando ne hai cambiato serrature? Quelle della tua stanza? Beh Quelle della tua stanza è un'altra Perché? Cosa sai? Perché se hai cambiato la serratura ad una stanza Oltre la tua Su 50 stanze Vuole significare che tu hai dei sospetti E io ho il dovere di saperli perché tu per avere questi sospetti Vuol dire che ancora dovevi arrivare E sul ponte del Cino, sull'altro ponte C'è stato qualche d'uno che ti ha detto Adesso che arrivi sta attento all'avvocato Monti Questo è il problema Allora io volevo a questo punto però coinvolgere Ed è doveroso Allora volevo coinvolgere il professor Giulio Iudicissa Anche perché sicuramente vorrà esprimere la solidarietà Alla recente amministrazione Che purtroppo, ahimè, come dice qualcuno Ci ha lasciato Questa amministrazione Geraci Che ha lasciato Corigliano in queste condizioni Senza riuscire, tra le altre cose A fare quello che era l'obiettivo principale Di tutto il percorso amministrativo Io con tutto ciò che sono tuo padre Certe volte non ti capisco Quando scherzi, fai un sorrisetto almeno Fammi capire che stai scherzando Perché se tu mi dici Non ho finito Allora professore Vuole ringuorare chi ha tentato in tutti i modi Di revocarmi dall'ingarico di consigliere comunale Ma non ci è riuscito Perché questo alla fine era poi il primo punto All'ordine del giorno del consiglio comunale Che però non si è più tenuto Perché il commissario ha detto No basta, non vado più danno Ma forse aveva messo qualche scommessa con la moglie O con un figlio Che ne puoi sapere tu Ha detto io Prima di andare No ma non scendiamo nelle questioni familiari e personali Io sto parlando appunto di istituzionale 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 Un c punto Allora professore Questo diciamo Le abbiamo dato più assist Io non posso ringuorarti Ne posso ringuorare chi che sia Eh sì, ringuorare essi Perché da questa postazione Io ti invitai A entrare nel tuo ruolo di consigliere comunale Per un mese, due mesi, quindici giorni, una settimana Anche per una sola seduta Perché? Perché Avresti quantomeno Avuto a disposizione Dieci, quindici minuti Per elencare Come si diceva una volta Fare la nota Della lavandaia Con tutto il rispetto per le lavandaie che c'erano Avresti avuto la possibilità di elencare Cinque, sei, dieci, dodici punti Da consegnare Ecco da consegnare A chi Poi Sarebbe arrivato Vabbè lo posso fare Lo posso fare tranquillamente adesso al commissario Però Da consigliere comunale Lo puoi fare Lo puoi fare adesso Tu ne fai soltanto una questione di tempo Vabbè Io mi auguro che tu lo faccia adesso Per quando invece riguarda L'insediamento del commissario Che Abbia deciso Che abbia, come dire Ordinato Il cambio della chiave Condotto il martingegno Per entrare nel suo studio privato Nel suo gabinetto Si dice Nel suo gabinetto privato Beh, io questo Penso che sia Un fatto di normale amministrazione Perché Un commissario Un commissario che viene Giulio se è una la chiave Il microfono, il microfono Ho capito Ma io Ritengo che Vada a sostituire Ritengo che la chiave sia una Quella relativa All'ingresso Nel suo studio Nel suo studio Eccetera Va bene Per il resto Non è Non è questo il problema Del cambio di chiave Il problema Ma semmai Riguarda Un cambio Di mentalità Un cambio Di metodo Un cambio Di procedura Siccome hai Aperto Hai introdotto Il salottino Di quest'oggi Citando Ricordando La vela Con la quale Ci si duole Ci si duole Ecco Ci si duole Del fatto che 1041 anni di storia Siano stati venduti Siano stati venduti Bene Io Senza Come dire Presso adesso L'avvocato No scusate un attimo L'avvocato Montella ha avuto Diciamo parole Anche forti Uno sfogo Ha detto Queste sono cose Magari ha preferito Nel suo primo intervento Parlare poi di altri aspetti Però non credo che sia Una cosa proprio Da far passare In secondo piano Quando uno che è stato Vice sindaco È stato Candidato A sindaco Che scrive delle frasi Così Forti Credo che sia Anche doveroso Fare un'analisi politica Ma io penso che In conseguenza Di quello che ha visto Nella veste Di consigliere comunale Di assessore O di vice sindaco In conseguenza Di quello che Ha pensato Avrebbe potuto fare Se fosse stato Eletto sindaco Ebbene adesso Si duole Si duole Perché Tutta una storia Lunga 1041 anni Si perda Così Nel vuoto Ma perché si perde? Il micro Io non ho capito Che vuol dire Si perde La storia di Corigliano Rimane Nella memoria Di tutti quelli Che si sono sempre Interessati Della storia di Corigliano Il fatto che si unisca Ad un altro Non vuol dire Che rinunzi alla sua E allora Questo mi sembra Un gioco a scarica Barile Che vuol dire Si è venduto Si è venduto A scarire Il nome Corigliano Ebbene Qualche cosa Se l'è venduto Ma siccome Non è pensabile Immaginabile Ma non è Nella cronaca Che è possibile Tutto ciò Vuol dire Che non si è venduto Niente E che si vuole D'altra parte D'altra parte D'altra parte Non ci dimentichiamo Che l'attuale sindaco Che con un saltino È passato Dalla parte Di quelli Che vogliono La colurbazione Chiamiamolo così Per farci intendere Da tutti E fino all'ultimo È stato contrario Di modo che Se la va a prendere Proprio con chi È stato contrario Ma lasciamo stare Lasciamola stare Sta storia Lasciamo stare Perché può darsi Che l'abbia fatto Anche per altri motivi Io lo conosco È una bravissima persona Avvocato Alge È uno che Ecco Che ha sempre Lavorato da quando Era bambino È uno che ha studiato È uno che È uno che sa fare Il suo mestiere E che soprattutto Ha dato anche Molte possibilità Di sviluppo Alla nostra città Perché dovrebbe essere Caduto in questo errore Perché evidentemente Ci sono dei fatti Che possono appianare A due In una stanza Ricordiamoci Che in un'altra vela Si erano stretti la mano Insomma Si dovranno incontrare In qualche posto Speriamo in un posto Molto bello Arieggiato Dove si possono Ristringere la mano Allora Comunque sia Comunque sia Sì Il mio pensiero è questo Un cittadino Mettiamola così Un cittadino Ha pensato Di porre il suo pensiero Su una vela Ora Avrà usato Ha usato Senz'altro Una maniera Forte Una maniera Come dire Come spiegavi tu Non corretta Proprio sul piano Della storia Va bene Però Io dico Ha fatto bene Ecco Io dico Che ha fatto bene Ora Dicevi bene La fusione Non cancella 1041 anni Di storia Assolutamente no La storia Resta lì Nessuno può toccarla Nessuno può camuffarla Anzi Se c'è qualcuno Che ama La storia Che ha amato E che continua ad amare Ad essere interessato Alla storia di Corgliano Adesso Come dire Dovrebbe Riprenderla Questa storia Ristudiarla Riscriverla Renderla Come dire Visitarla Nei minimi particolari Scusami giù Tu dici Se c'è qualche Dugno Però che Abbiamo messo la vela Io lo condivido Perdone Se mi avesse chiesto Un contributo Dici me lo dai Un euro Perché la vela Costa non so quanto Io L'euro Come dire Come parziale Contributo Alle spese Che ci vogliono Per mettere Per far circolare Una vela Con quel contenuto Io ce l'avrei messa Il problema Ha usato Un linguaggio forte Un linguaggio Non corretto D'accordo La storia 1041 anni di storia Non si cancellano D'accordissimo Però Ha voluto dire Un comune Che ha 1041 anni di storia Ope Leggissimo Per volontà Dei cittadini Per volontà Del destino Per volontà Non so di che Cessa Di essere Comune Autonomo Allora Un attimo solo Però Non dobbiamo mai dimenticare Non dobbiamo mai dimenticare Che grazie Che grazie A come è stata gestita Anche dal punto di vista Mediatico E morale Dall'amministrazione di Corigliano La fase referendaria Lasciamo stare Rossano Però Sono andati a votare Il 33% E il 19% Di Corigliano Il 19% Di Coriglia Ha detto sì E questo 19% E' diventato sovrano Allora Allora Su questa vicenda Su questa vicenda Prendiamo il lenzuolo Che sarebbe caduto Lì sarebbe stato Ammainato Come fosse Ci sono pure le vostre E copriamo E copriamo Questa vergogna Copriamo Questa vergogna Comunque sia Comunque sia Il sì Alla fusione Ha vinto E noi Rispettiamo Democraticamente La volontà Del Cosa ha fatta Io 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 per esempio Sono stato per il no Resto per il no Non ho creduto Nel progetto Di fusione Non credo Che la fusione Possa portare Benefici Se Se l'avvocato Algieri Mi chiederà Perché mi è uscito E l'ho detto Mi chiederà Un euro Quale contributo Alla vela Ma non ha bisogno Del mio contributo Di un misero euro Ma se mi dovesse chiedere Un contributo Io gli darò Il contributo Per quella vela Che Insomma Ha messo su A disposizione Cogliamo l'occasione A disposizione Invece dell'euro Cogliamo l'occasione Per invitarlo Alla nostra trasmissione Ma è sempre stato Benvenuto Quindi lo sa Allora prego Prego avvocato Mi meraviglio Di te Giulio Perché è una vela Troppo innocente Non c'è la mano del professor La cosa La cosa È morta E sepolta Se noi diamo ancora importanza Ad un fatto Che è finito Che è definito Che è morto Tralasciamo Di dare importanza Al fatto Che per dirigere Per un giorno Per una settimana Per un mese O per sei mesi Speriamo No Per sei mesi Tu mi dici Anche di più Poveri noi Anche di più Due paesi Della fatta Di Corigliano E di Rossano Si è stato Chiamato Un solo Commissario Il primo consiglio Che da cittadino Di Corigliano Io ho il dovere Di dare Solo per i capelli Bianchi Non per altro A questo commissario È che debba nominare O farsi nominare Almeno altri Quattro commissari Che debbono aiutarlo Se La sua permanenza Nei due comuni Dovesse superare I 15-20 giorni Almeno quattro Perché lui Deve dirigere Questi quattro E deve lasciarne Due a Rossano Due a Corigliano Con l'obbligo Della residenza Perché se no Non ci resta più niente Di questi due paesi Abbiamo Unito Due paesi E aspiravano A diventare Due città E ne abbiamo fatto E ne abbiamo fatto Due Baracche Sbarracate Di solito Con le baracche Ci sono i burattini In una conversazione In una conversazione Privata Cioè in una delle tante Conversazioni private Quotidiane Che noi due abbiamo E continueremo Ad avere Alla domanda Da te Posta A me Ma questo commissario Secondo te Resterà così Solo Ad amministrare Corigliano E Rossano Io ti ho detto Di norma Il commissario Viene solo Ma poi va via Accompagnato Perché Quando si Quando si renderà conto Dopo una settimana Un mese Eccetera Quando si renderà conto Dopo un giorno Dopo un giorno Quando si renderà conto Della complessità Urbanistica Antropica Di Corigliano E di Rossano E allora chiederà Chiederà A chi di competenza Di avere Una collaborazione Una collaborazione Che si materializzerà In un altro In altri due In altri tre Fino ad arrivare Ad altri quattro Sub commissari Come dicevi tu Con l'obbligo Della residenza Con l'obbligo Due in una città E due in un'altra E due in un'altra Benissimo Con l'obbligo Con l'obbligo Della residenza È possibile Sei giorni su sei Se la vedranno loro Allora Professor Volevo a questo punto Però diciamo Superare un po' Questa fase Me la fai dire Una cosetta soltanto Guarda Io non so Che strada Abbia fatto Il commissario Per esempio Per arrivare A Corigliano Non mi inter Tralascio La situazione Rossanese Penso che Per arrivare A Corigliano O Si è venuto Da Cantinella Oppure Abbia fatto Un tratto Di superstrada La 106 Nuova E si è venuto Poi Si è venuto Si è venuto Da O da Come dire Da Rossano Quindi O Ha preso la bretellina Di A Schiavonea Oppure L'altra A Stanta Lucia Allora Se è venuto Da Cantinella Speriamo che è venuto Con l'elicottero Magari no Se Se è arrivato A Corigliano Da Cantinella Beh Un calcolo Rapido L'avrà fatto Delle buche Che In Siche Si trovano Tra Diciamo Subito Dopo Cantinella Fino ad entrare Nello scalo Di Corigliano Se è venuto Se è venuto All'altro lato E ha preso La stradina Di Santa Lucia Beh Io Penso che lì Insomma Si è sceso Avrà pensato Di andarsene Subito Mi auguro Allora Mi auguro Che sia venuto Da Cantinella Perché da Cantinella Da Cantinella A Corigliano Scalci Saranno 100 150 Buche Se ha preso Santa Lucia Ce ne sono 1500 Che cosa ha fatto Che cosa ha fatto Per cui Per cui Sarà gioco facile Che nell'arco Di 7 8 giorni Chiederà Chiederà Come dire Chiederà Una Quando ha fatto Un aiuto Non parlo Non parlo Della rete idrica E fognaria Non ne parlo Perché Nell'ultima Ma Scusa Gli metti paura E se chiede Lo stato di calamità Non arrivano soldi A pioggia Ma io non ne parlo Della rete fognaria Perché Non ne posso parlare Perché nell'ultima Settimana di pioggia Io sono stato Sono stato una settimana A raccogliere acqua Perché c'è la fogna C'è la fogna Ci sono fogne Della stazione Tratti di fogna Della stazione Intasati E non si può Porre rimedio Perché Perché La macchina L'attrezzo Che serve Per spurgare le fogne È fuori uso Quell'attrezzo È fuori uso E non può essere aggiustato Perché ci vogliono Ci vogliono Ci vogliono 20.000 euro Devi stare calmo Perché se tu facevi Che partivi dal porto Per arrivare Dove c'è la piazzetta Su quella strada Che si chiama Viale Salerno Non c'è Un metro Senza Senza segnali Che stanno a significare Buche profonde Dove si può Profondare Segnale Quale segnali Devi dare Così metti paura A questo povere commissario Non è che gli dici Soltanto Chiamano altri I quattro Gli dici Vattene Gli dici Vattene Scusate un attimo Io vorrei Vorrei a questo punto Però innalzare Un pochettino Vogliamo concludere Vorrei innalzare Il discorso Vorrei concludere Dicendo così Tu sai che Ho avuto E ho ancora Ho ancora Il vezzo Dello studio Dello studio Della storia Patria Dalla fine del 1800 Ad oggi Io non ho trovato Non ho trovato Purtroppo Io mi auguro Che questo signore Che viene adesso Nella qualità di commissario Rappresenti Una eccezione Quasi una manna Mantata Dalla provvidenza Di vita Però per quello Che mi risulta Per quello Che mi risulta Tra i Tanti Tutti Tra tutti I commissari Del re Prefettizi Governativi Eccetera Dalla fine del 1800 Venuti a Corliano Ad oggi All'altro ieri Io non ho trovato Io non posso dire Che ci sia stato Un commissario Che abbia Risolto il problema Io dico Che non c'è stato Non c'è stato Senza congiuntivo Un commissario Che andando via Non si sia portata Una benedizione complessiva Di tutti i cittadini Quanto Quanti Meno male che te ne vai Meno male che te ne vai Vedi I commissari Hanno fatto Rimbiangere Le amministrazioni Che non avevano Che non avevano Funzionato Per quanto riguarda poi Le amministrazioni L'amministrazione Cessata Cessata In maniera naturale Io posso dirti poco Dell'amministrazione cessata Molti consiglieri comunali Li ho conosciuti Ma non ho avuto Con i consiglieri comunali Occasione In questi anni Di confronto A tu e tu Ho conosciuto Conoscevo Alcuni assessori Non ho avuto L'occasione Di misurarmi Su qualche problema Con gli assessori Una Una Io devo Devo mettermi a posto Con la coscienza Unica Unico rapporto Un sol rapporto Ho avuto Ed è stato Con l'assessore Alla cultura Professore Tommaso Mingrone E devo dire Devo dire Perché Non posso Come dire Nascondermi E devo dire Che Con l'assessore Alla cultura Mi sono più Volte Confrontato E alcune volte Abbiamo fatto Delle cose Che ritengo Sicuramente Siano state Garbate Sicuramente Si apre Si vede anche Dagli ultimi mesi Si apre Per Geragi Un nuovo capitolo Perché sappiamo tutti Che ha ancora Tantissime velleità politiche Da dove partirà Per la sua Diciamo Nuova campagna elettorale Cosa userà Come immagine Le condizioni Del porto Le condizioni Del lungomare I lambioni Oppure la villetta Di schiavonea La montagna Professore Ma questo Ma non ci presenterà Perché dobbiamo fare Questi Che cosa Da dove partirà Per esempio Qualche immagine Del quadrato Ma non ci presenterà Ma scherziamo Da dove partirà Da dove partirà Ma io penso che Se dovesse essere sintaco Della nuova realtà Un Come dire Il già sintaco Il già sintaco Di Rossano O il già sintaco Di Corriano Io penso che potranno Fare poco Perché Se avessero avuto La possibilità Di fare L'avrebbero già fatto In tanti anni E Non è che Per aggiustare Le fogne Di via Rosmini Il sintaco Deve riproporsi Non è che Per pulire Per pulire La facciata Del quadrato Compagna O per Per sanare La situazione Della Della Gruviera Che è Tutto il sistema Viario Corvianese Deve riproporsi Il medesimo Sintaco Io non credo Proprio Io non credo Proprio Che ti dico 40 anni fa Quanto Ammazzarono Quanto ammazzarono Quanto trucidarono Moro E la sua scorta Si deliberò In consiglio comunale Questo lo devo dire Si deliberò In consiglio comunale Di intitolare Una strada Ad Aldomoro E infatti Noi abbiamo Adesso Dopo un po' di tempo Fu intitolata La strada Che collega L'Ariella A Sant'Antoni Fu intitolata Via Aldomoro Nella stessa Delibera comunale Si decise Allora Di apporre Una targa Sullo slargo Sullo slargo Come dire Che sta al di qua Della discesa Dell'ex via auspizio Poi via Aldomoro Una targa Una targa Che ricorda Una targa Che ricordasse L'ecidio Dei martiri Di via Fano Perché abbiamo Parliamo di moro 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 Ma della povera scorta Che non ne abbiamo parlato Allora Come dire Umanamente Umanamente Si pensò Allora Di deliberare In consiglio comunale Di apporre una targa Lì Sullo slargo Dell'Ariella Dal quale poi Si accede Alla discesa Di via Aldomoro Dopo 40 anni E dopo tante Sollecitazioni Quella targa Non è stata Ancora Apposta Allora Che vogliamo fare Vogliamo riproporre La stessa Amministrazione comunale Per mettere Sta targa Che non è stata Apposta Negli ultimi 40 anni E no Io dico Io dico Che È inutile Pensare Secondo Un'antica maniera Anche perché Anche perché I partiti Sono viniti Sono nate Nuove aree Sono nate Nuove sollecitazioni Allora scusate Si parla sempre Si parla sempre Non facciamo Adesso Non facciamo Programmi Non facciamo Programmi Perché se no Saremo travolti Noi e i programmi Che facciamo Che facciamo Adesso Lasciamo Che adesso Ma se parlate così Però voi Fate finta di non sapere Che la campagna elettorale È già partita Già si stanno preparando Diverse liste Per queste nuove elezioni Allargate Comunque Io so che adesso Io so che adesso È partita Soltanto la campagna Dei comitati So che stanno nascendo Dei comitati Una persona mi ha chiesto Professor Iudicista Secondo voi è una cosa buona Che sorgono questi comitati Io rispondo Sì Secondo me è una cosa buona È una cosa che Manteranno Anche perché sorgono sempre Per amore verso il territorio Mica per le elezioni Io penso che Al di là Di chi sia Il Di chi siano i promotori I comitati In conclusione Non riuscivamo a frenare Non riuscivamo a frenare L'avvocato Monte Adesso gli diamo la conclusione Siccome è un garantista Sì È un garantista La conclusione All'avvocato Monte Che è un garantista Allora che cosa è mancato A Corigliano Nell'ultima amministrazione Per essere Per filo e per segno Uguale Sovrapponibile Al modello Reggio Ma non ho capito Se le domande che mi fai Servono per Vuole una risposta da te Penalista Non da te garantista Da chi ha fatto una domanda Camuffata Ma l'ha fatta All'avvocato Monte Penalista Non all'avvocato Monte Garandista Ma io Per quanto penalista Posso essere stato E possa essere Non mi frega Proprio nulla Di questi Chi abbiano arrestato No Vabbè Vabbè Allora Quattro anni Di questi che ci sono adesso No ma quattro anni E qualcosa No ma la domanda era diversa Quattro anni E qualcosa Scoppelliti Che si sta andando a costituire Ma secondo te Quelli che se ne andranno Secondo te Sono degni Di avere Come difensore Un penalista No Questi non sono Non hanno bisogno E come dire Un ladro di gallina Di gallina Tu vai a nominare Un penalista Che ha fatto processi In corte d'assisi In tutta Sarebbe stupido E ridicolo È giusto Ho sbagliato domanda Ho sbagliato domanda Ho sbagliato domanda Diciamo come dicevano i romani Cui Que sum Lui non lo traduce Io lo traduco Perché ci sono pure Quelli che non sanno Lo scriviamo sul quadrato Che vuole significare A ciascuno Il suo Di modo che Se c'è uno Che capisce Capisce Se c'è uno Che non capisce Li facciamo mangiare La ghianda Allora Io vi ringrazio Qualche d'uno Qualche d'uno Qualche d'uno Dice Diceva e dice Che poi Che poi c'è l'aldilà Che poi C'è l'aldilà No C'è invece Qualche persona Di buon senso Che dice Attenzione Perché l'aldilà Comincia Già Prima o poi Su questa terra Io ritengo Che l'aldilà Cominci Già Su questa terra Nel bene E nel male Non so dire Come Quanto Però ritengo Che l'aldilà Cominci già Su questa terra Per me Per noi E per tutti Voglio dire Perché è scritto Nei vecchi Nei testi sacri Per tutti Arriverà L'ora Professor Arrivati a questo punto Chiudiamo questa puntata Di Piazza Grande Io vi ringrazio Spero Anche se ci sono riuscito poco A farvi diciamo Arrabbiare un pochettino Vuol dire che devi ritornare Devi ritornare Alla programmazione ordinaria Ci siamo riposati un po' troppo Se tu per 15-20 giorni Non produci In questo salottino Di Piazza Grande Perché Perché hai dovuto aspettare Che cominciassero Le consultazioni Al Quirinale Hai dovuto aspettare Che arrivasse Il commissario Per vedere Se poi arrivava Da Cantinella O Dalle buche Di come si chiama lì Di Santa Lucia Se dovesse accadere Per fatto strano Non augurabile Che la cosa Amministrativa Di Corigliano E di Rossano Perché ormai siamo Due entità unite Dovesse rimanere In mano Ad un solo Commissario Prefettizio Per più di 15 giorni Alla prossima puntata Speriamo Che Matteo Voglia capire E possa darmi Un paio di camomille Prima di farla Ma alla prossima Puntata Vi faccio divertire No ma qua Non si diverte nessuno Purtroppo Viste le condizioni Del territorio Io mi auguro Non si diverte nessuno Per come ci hanno lasciato Non si diverte nessuno Allora io mi auguro Io mi auguro Che questo commissario Resti solo E che non siano nominati Sub commissari Perché Perché Come tu dici Se dovesse rimanere solo Tu ci farai divertire Ed io voglio Vorrò divertire Allora Allora Voi non avete capito Che la priorità Era la mia revoca Cioè Voi non partite da questo dato Era la mia revoca Non ci sono riusciti Pazienza Ma sei stato Ma sei stato revocato Io non credo No no Perché non credo Non credo che Ma non diamo convivenza Va bene Va bene Va bene Queste sono stupidaggili No perché presso Non c'era il VAR Ma io non Allora Ma io non credo Che qualcuno Abbia Abbia pensato Di revocare Di revocarti Come consigliere comunale Non me lo dire Perché se me lo dici Io pubblicamente Risponderò Non ti credo Sei un bugiardo Se tu mi dici Che qualche d'uno Ha pensato Vabbè vi do una copia Di revocare Se tu mi darai una copia Nella quale c'è scritto Che eccetera eccetera C'è visto Considerato E Chi doveva entrare A posto mio Magari si ha comprato La camicia La cravatta Madonna 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 della pietà E del miracolo Se tu mi farai E' presso il cavo Vabbè Se tu mi dici Qualcuno voleva revocarmi Io ti dico No Non ti credo Se tu mi porti un documento Una convocazione di consiglio Un caffè Con un ordine del giorno Nel quale Mi farai leggere Che Ad un certo punto c'è scritto Revoca Dell'avvocato Matteo Allora io dirò No Primo punto Primo punto Allora grazie Grazie Vi ci porto No vabbè No è meglio di noi Io al commissario chiedo Che faccia fare una targa Che non costa nulla Per onorare I martiri di Viafani Secondo Di Viafani Secondo una delibera Di 40 anni fa E poi chiederò Che venga Chiedo Che venga Come dire Rimesso a nuovo Quel mezzo Quel camion Eccetera Che serve per spurgare le fogne Perché alla prossima pioggia Non vorrò più Raccogliere fogne Raccogliere acqua di fogna Grazie a tutti quanti voi Naturalmente Piazza Grande Dopo la pausa pasquale Ritorna con La consueta Sistematicità Quindi Ci vediamo La settimana prossima Grazie amici di Piazzagrandetv.com Grazie a tutti quanti I telespettatori Di Tele Libera Cassano Che ci seguono Da tantissimo tempo Arrivederci alla prossima Qui in Piazza Grande Un saluto Da Matteo Monte